GeoGebra è lo strumento con cui puoi manipolare le figure per risolvere gli esercizi di geometria. Vediamo un esempio. Leggi la consegna dell'esercizio. Per rispondere, puoi interagire con la figura dinamica che ti proponiamo. Al variare della posizione di C, quale tra queste affermazioni è falsa? Usa lo strumento Distanza o Lunghezza per visualizzare le misure dei lati AC e BC. Muovi il punto C lungo la semicirconferenza e osserva cosa accade. Il rapporto varia perché possiamo avere sia AC maggiore di BC ma anche AC minore di BC. Quindi, l'affermazione falsa è il rapporto tra la misura di AC e quella di BC è costante. Vuoi avere una prova ulteriore? Verifica, ad esempio, che cosa succede all'angolo in C. Misura sempre 90 gradi. Ora puoi selezionare la risposta. Con GeoGebra puoi manipolare le figure, fare ipotesi e verificare gli effetti del tuo ragionamento. A seconda dell'esercizio, puoi interagire con rette, segmenti e figure o costruirne di nuovi per esplorare le loro proprietà geometriche e trovare così la risposta esatta. GeoGebra è lo strumento dinamico e interattivo che ti aiuta a risolvere gli esercizi di geometria. Zanichelli. Idee per insegnare. Idee per imparare.